Incontriamo Michele Mirabella, il professore della televisione italiana, professore tre lauree e tantissime passioni. Un nuovo libro che è veramente molto interessante e che si apre, bisogna dirla, ad un pubblico assolutamente eterogeneo. Sì, tanto professore della televisione italiana è un titolo che mi è stato dato in una sbrigativa intervista molto meno accurata di quanto fosse necessario. E io rifiuto questo titolo anche perché sarei alle prese con degli studenti un pochino riottosi, diciamo, un po' negligenti. Se mi dice la televisione italiana sarebbe comodo, considerando che non è solo quella di servizio pubblico, che tra l'altro avrebbe bisogno di molti professori in questo momento. Comunque, ecco, la domanda era, inverteva sul libro. E ho scritto questo libro sulle insistenze della casa editrice benevole, che io ringrazio, perché l'altra mia produzione letteraria è, diciamo, accademica, destinata agli studenti della facoltà di lettere, da ultimo, poi di sociologia, prima ancora di beni culturali, di varie università, che avevano bisogno di una manualistica in grado di soddisfare le loro necessità accademiche. Da ultimo mi è venuto in mente, sulle citazioni della Mondadori, e anche di un mio studente, poi assistente, perché si è laureato con me, e ho raccolto le divagazioni che spesso io, diciamo, diluivo nel corso della lezione per renderla meno noiosa, meno accademica, diciamo la verità, qualche volta noi siamo noiosi, noi professori. E allora ho raccolto queste spigolature sul mondo della classicità, che sono più affini al mio passatempo preferito, se possiamo chiamarlo così, è quello dello studio, che non ha la mia professione attuale. E allora è venuto fuori questo canta mio mouse con un titolo così beffardo. Professore, ci sono degli accostamenti veramente geniali. Cleopatra come un'esperta, forse la più esperta nella storia dell'umanità, di marketing. Sì, ha fatto un esempio calzantissimo dell'assunto che l'editore ha ritenuto di dover mettere in copertina, in un mondo moderno spiegato dagli antichi. Perché? È vero, è vero. Cleopatra è proprio un esempio. La sensibilità collettiva, comune, considera Cleopatra una specie di virago, di donna affascinante e anche un po' puttana, un po' amante di questo e di quello, dissoluta, direbbero, con meno violenza e volgarità gli storici. In realtà lei era un'astutissima intellettuale, che parlava le lingue e tante che si è intesa perfettamente, non soltanto a letto, con Cesare e Antonio. Quindi evidentemente un po' di latino lo parlava, consideriamo che sicuramente Antonio parlava il greco e Cesare non era forse da meno, ma insomma non tanto da poterci colloquiare amabilmente. Quindi era un intellettuale, era colta, sapeva di matematica, di aritmetica, conosceva il mondo, era cinica e spietata nell'esercizio del potere. Basti pensare a che fine ha fatto fare i suoi parenti, prima ancora che a se stessa. Ed ha misurato il mondo sulla base del suo girovita, direi, con un paradosso, insomma. Quante volte sta nel mondo, nella periferia del mondo, nel perimetro del mondo del mio girovita. Era una che contava molto sul suo fascino, che era quasi tutto intellettuale, ecco, diciamo. Non credo che sia stato proprio un fascino fisico, donne belle ce ne sono sempre state, ma donne belle che sapevano proporsi come Cleopatra a governare il mondo conosciuto, non proprio. Poi nel libro si parla di piramidi e tronisti. Sì, sono due paradossi, cioè uno è un paradosso, le piramidi. Le piramidi sono nell'immaginario generale dei monumenti dei quali un'alta aliquota di quelli che le conoscono non sanno l'origine, no? Anche molti turisti appassionati conoscono poco delle piramidi, quello che hanno detto le guide arabe sul posto, ma che cosa siano state? La perfezione della loro misura. Ecco, il concetto che la piramide tanto si può edificare perché è una misura. Questa sfugge a molti. Come abbiano costruito le piramidi è sempre stato un segreto gelosissimo, conservato bene dai maestri di scuola, in vena di paradossi per attrarre gli alunni. Non è così, si sapeva più o meno come... Lei provi a mettere della sabbia in una forma di vetro, di trasparente, comunque di cartone, e vedrà che avrà le misure della piramide, poi le porterà, le allargherà, le moltiplicherà, e farà il progetto di una piramide. Ma quello che è straordinario è tutto il complesso culturale di dati e di proiezioni dell'immaginazione che è nelle piramidi. Progetti che io non padroneggio completamente. E chi lo fa che non sia proprio egittologo? E quindi io ne ho parlato. I tronisti sono nell'immaginario collettivo altrettanto famosi. E questo è veramente scandaloso. Che siano più conosciuti tronisti che non cheope. Secondo lei perché? Perché è una società nuova, affluente, che non si interroga molto più sulle proprie origini e compie un crimine del quale pagheremo delle conseguenze amarissime e dure. È una società che, se potesse, si farebbe il selfie collettivo in una specie di annichilimento. È una società che non vada più ai libri, che non ha i libri fisicamente parlando di carta e di cartone. No, ai contenuti di questa carta. Forse ci saranno altre forme di... Come dire, ci sono sicuramente altre forme, non forse, per distribuire e fare veicolare il sapere. i saperi, ecco, mi auguro di sì. Sono scettico un po', perché sin dalla scuola, per poi arrivare alla società, ci si interroga molto poco, anzi per niente, sul nostro passato. Professore, parliamo di social network. Lei che cosa ne pensa? Lo dica in italiano, così io lo capisco. Io lo so perché parlo l'inglese, perlomeno non parlo, ne esageriamo. Sono in grado di comprendere e di barattare due chiacchiere. Ma troveremo prima o poi un sinonimo, in onore anche alla lingua più bella del mondo, social network, cosa vuol dire? Rete sociale, è allora. Rete sociale, più o meno è quello che voleva dire, no? Qual è la sua opinione? Che è bellissima, è usata male, ecco, è usata malissimo, solo per giocare, per le scherze, per la volgarità, è usata malissimo. È come il mare, non si può usare il mare per affogare, si deve usare il mare come lo usava Odisseo, per comunicare. Si dice che gli italiani ormai anche sui social network, su questa rete sociale, non leggano oltre la terza riga di un qualunque testo. Si dice così? È peggio per loro. Perché accade questo, professore? Per la stessa ragione che ho tentato di spiegare prima, perché siamo talmente ossessionati dalla superficialità, dal consumo mordi e fuggi, dal tutto rapido e immediato, dal piacere, da questo edonismo imbecille, che non distinguiamo più, non dico che dobbiamo rispettare tutti lo stesso mondo di valori, per carità, ma uno deve avere un mondo di valori, deve sapere da dove veniamo, perché altrimenti non andrà da nessuna parte. Dicono proprio in Sicilia, ma il mio siciliano forse è ferato, non è corretto, ma io traduco, riferisco come l'ho sentita, mi ha fatto molto ridere. Chi du che cerca, insomma, quello che cerca, colui che c'è, lo dica lei in siciliano, colui che cerca quello che non sa, finisce che trova quello che non vuole. Come si dice? Chi du che cerca consape, trova chi du che non vuole. Devo insegnare io e si insegnare. Ho avuto un po' di difficoltà con la seconda parte della frase. Questa necessità di apparire necessariamente sui social, belli e felici, lei come la legge? Come conseguenza di quello che abbiamo detto, perché uno doveva apparire sul social in questi folli e sceme infelice e sincero? Non è quello, è l'immagine che vogliamo dare. È un eterno ritratto di Dorian Gray. Il mio prossimo libro che uscirà a giorni si chiama Il selfie di Dorian Gray. Noi siamo, quello Oscar Wilde l'ha scritto un secolo e mezzo fa, la fine che avremmo, no, un secolo e mezzo è troppo, diciamo, 120-130 anni fa, la fine che avremmo fatto. Ma ti incontri la gente per la strada, mica ti saluti e ti stringe la mano e ti dice che cosa ne pensa, che ne so, della Sicilia o di Leonardo Sciascia o di come si mangia a Gela, che sarebbe già un argomento interessante. Ti dicono, facciamo una foto, perché dovrei fare la foto con te? Non te conosco. Pretendono di affermare una conoscenza arbitraria e falsa. L'atto della foto è un'intimità. Ma se io dicessi, scusi, vieni a letto con me, alla prima donna che ho incontrato, verrei arrestato. Ma invece se dico, facciamo una foto, no. Non si fanno le foto. La foto è la conseguenza finale di una lunga amicizia. Tanto è vero che se lei ricorderà, le foto della scuola, quando le avrà fatte anche lei, non si facevano il primo giorno di scuola. No, devi aspettare la fine della scuola. Una l'anno e se andava bene, era maggio, che si faceva anche festa e non facevi lezioni. Scendevi in palestra, ti mettevi il fiocco nuovo, la professoressa si metteva il brolocco, il professore tirava dentro la pancia, quelli accosciati erano i più bravi in ginnastica e ti facevi la foto. Perché in generale c'era una confidenza. Non è che la facevi il primo giorno di scuola. Quelle sono foto, si chiamano, foto segnaletti che le fanno la polizia e i carabinieri. Professore, lei continua a studiare, è la sua grande passione lo studio e ha lavorato moltissimo nella sua vita. Continua a lavorare, ha ancora un sogno nel cassetto che vuole condividere con noi? Vorrei avere un cassetto pieno di sogni. Questo è il sogno nel cassetto. Ce l'ho il sogno, naturalmente. ma non riguardano me. Arrivati a un'età certa, e non a una certa età, si diventa saggi e si comincia a sognare per le persone a cui vuoi bene. E questo è. Grazie. Adesso io le chiedo un autografo e una dedica. Grazie, professore Mirabella, è stato veramente un grande piacere. Se vuole ci possiamo fare un selfie. Ok. Grazie. 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 Grazie.